Radio Flash e Livorno Magazine.it presentano Innamorarsi di Livorno Livorno e il suo porto di Alessandro Brunetti Situato su una cala naturale della costa tirrenica, nelle immediate adiacenze del porto pisano, sorgeva un piccolo villaggio di nome Labrone. Le origini di questo borgo sono di natura molto incerta. C'è chi lo vuole stazione navale degli Etruschi. La presenza della cala naturale e la sua posizione geografica ponevano le premesse per una sua futura espansione e infatti, allorché fu distrutto nel 509 Turrite, principale emporio del porto pisano, Labrone ne ereditò l'importanza e dalla metà del VI secolo inizia la sua storia legata alle fortune del suo porto. All'epoca non esisteva che un piccolo borgo sulla cala naturale, protetto militarmente da una fortezza, detta la Rocca Vecchia, che si ergeva a forma di una grossa torre quadrata all'estremità meridionale della cala. I collegamenti con l'entroterra erano assicurati dalla via Carrareccia e via Carraia, costruite dai pisani. Con l'avvento delle invasioni barbariche, il villaggio di Labrone non segue più le sorti di Pisa. Nel 1100 è governato da Matilde di Canossa, che ordina la costruzione di una torre di forma rotonda, detta poi Mastio di Matilde, all'imboccatura della cala, per difenderla dalle incursioni dei Saraceni. Allorché le città italiane si ribellarono all'imperatore tedesco, Pisa divenne una florida repubblica marinara e la sua potenza fu accresciuta dal possesso del castello di Livorno donatogli da Matilde di Canossa nel 1103. I pisani, nel 1143, per aumentare il potenziale difensivo del porto, costruirono la quadratura dei pisani, cittadella quadrata situata sul lato nord della cala, che incorporò il Mastio di Matilde. Nel 1284 i pisani persero la battaglia della Meloria ad opera dei genovesi che distrussero le torri pisane. Il loro porto, inoltre, cominciava a interrarsi a causa delle sabbie del fiume Arno. Per queste ragioni costruirono nel 1304, ad ovest del villaggio su una scogliera, la torre del Fanale, altissima, imponente, costituita da due torri sovrapposte, con un diametro di circa 12 metri e alta oltre 50 metri sul livello del mare.